Quadri, sculture e installazioni in rame che raccontano parole da leggere, da ascoltare e da odorare, sì perché le opere del duartistico barese Dirò profumano anche di Gardenia. Terzo capitolo per l'esposizione Parole in rame, rimandata ben tre volte a causa della pandemia, ma che da oggi è possibile visitare all'interno degli spazi superiori del Museo Civico, fino al 7 giugno rispettando gli orari di apertura della sede della mostra, il sabato e la domenica invece su appuntamento. Parole in rame perché come si può ben vedere le opere sono fatte di rame trattato e c'è però comunque un lettering su tutte le opere, questo è scritto per esempio a mano ma ci sono poi le altre scritte in stampatello con i timbri e quindi hanno un contenuto e questo contenuto tra l'altro viene anche recitato perché c'è un QR code su ogni quadro e quindi l'attrice che ha recitato l'audio dà la possibilità ovviamente di ascoltare quello che è scritto. Noi siamo partiti con il lineare diciamo come opere, adesso stiamo man mano che cresciamo diamo volumetria a queste opere dando tridimensionalità a ognuna di esse. Il nostro obiettivo è quello di dare sinestesia a ogni opera, mettendo qualsiasi senso all'interno, tra l'altro anche gli odori. Grazie. 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 Grazie.